Una delegazione con il primo ministro della Repubblica di Belarus è stata ricevuta a Palazzo Lascaris dal presidente del Consiglio regionale Mauro Laus e dall'assessore alle attività produttive Giuseppina De Santis. Scopo dell'incontro, le prospettive di cooperazione con la nostra regione. Tra i possibili campi di collaborazione, la chimica, l'agricoltura, l'industria automobilistica, la produzione del legno, della pelle e della cellulosa.